La Digos è vicina a identificare l'autore delle nuove intimidazioni rivolte al presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Minacce di morte scritte con una bomboletta di spray nero in ampia evidenza sulle strisce pedonali di Via De Valoni, a Povo, sulla collina del capoluogo, vicino alla sede della Fondazione Kessler e al polo scientifico universitario. Una scritta con la frase «Uccidi Fugatti» e la firma è quella dei Notav e della stella a cinque punte dell'EBR. Stesso identico messaggio era comparso a settembre dello scorso anno nello stesso posto di Trento, in quel caso soltanto a firma Notav. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso adesso il probabile autore dei due gesti, un uomo con cappellino e spray in mano. Una singola persona dunque, ma non è certo da sottovalutare, ci dice il questore Maurizio Improta. In queste ore si riunirà un vertice interforze al commissariato del governo. Intanto il presidente Fugatti è sotto scorta perché esattamente un mese fa i operatori del centro di smistamento postale avevano intercettato una lettera contenente un proiettile e un messaggio di minacce destinato a lui e alla famiglia. La firma in quel caso era di lupo solitario. Scritte vili, vergognose, criminali, ha commentato il ministro Salvini. Sono accanto a Fugatti le parole del ministro Giorgetti. Solidarietà trasversale al presidente della provincia anche da tutto il mondo politico locale. Grazie.